due domande innanzitutto ti chiedo in quali possono essere secondo te le difficoltà maggiori della partita di domani poi ti chiedo secondo te nelle ultime tre partite al di là di un po di cinismo è anche mancato un po di coraggio ma le difficoltà partiamo dalla prima le difficoltà può essere il tempo può essere il campo pesante ma non devono essere degli alibi le difficoltà poi saranno quelle di affrontare una squadra e come tutte le altre partite saranno difficili e proveranno sicuramente a cercare di fare risultato noi dopo al di là delle prestazioni secondo me sono state buone importanti e dobbiamo cercare di ottenere i tre punti che mancano da un tempo e queste sono le prime difficoltà e non ho mancato solo un po dobbiamo essere un po più cattivi credere un po di più di di voler ottenere il risultato noi in alcuni infragenti durante la gara durante le gare che abbiamo appena fatto siamo stati poco cattivi in alcune situazioni noi dobbiamo essere ancora più cattivi secondo me solo questo è mancato perché poi alla fine i ragazzi la termine azione la volontà la voglia l'hanno sempre avuta in tutte le partite Domenico Cantarini Corriere dell'Umbria e del Sole buongiorno mister diciamo che c'è sempre un po' abituato in queste partite all'ilà della base del 3-5-2 diciamo così del sistema di gioco c'è sempre abituato a qualche soluzione qualche novità anche per il tipo di partita per il tipo di avversario mi chiedevo se per questa partita ovviamente magari non ce lo puoi dire però insomma hai preparato qualcosa di particolare se dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso di un po' diverso o di molto diverso rispetto alle ultime gare No guarda noi abbiamo a me piace provare diverse soluzioni perché credo che un allenatore debba pensare anche prima soprattutto prima della partita le difficoltà che ci possono essere durante la gara e nel senso che se trovi una squadra che si chiude nella propria metà campo devi cercare di impostare la partita sotto un aspetto se magari viene una squadra e se la gioca a viso aperto la deve affrontare in un altro modo e quindi noi dobbiamo essere pronti e preparati soprattutto a saper leggere la partita di partita in partita dobbiamo saper leggere e quindi noi dobbiamo provare delle soluzioni a me piace provare delle soluzioni diverse sia come sistema di gioco sia negli interpreti del sistema di gioco perché fare un 3-5-2 con determinati giocatori ha una certa valenza e quindi provi determinate cose con altri giocatori, con altre caratteristiche devi fare tutt'altro e quindi come ho detto prima un allenatore deve essere e deve pensare soprattutto prima della gara quale soluzione cercare e noi l'abbiamo provata stiamo provando diverse soluzioni sia come sistema di gioco sia negli interpreti Per concludere, quindi in questo caso ti aspetti un avversario chiuso? Mi aspetto un avversario che credo poi magari mi sbaglia che magari aspetta le nostre giocate per magari poi ripartire è quello che io immagino poi magari domani sarà tutto diverso verrà a giocarsela a viso aperto verrà a giocarsela senza paura non lo so cosa farà l'avversario immagino viene a Perugia a giocare in casa nostra magari non lo so penso che magari ti aspettano in determinata zona di campo per affrontarti e colpirti magari in contropiede poi ripeto magari mi sbaglio e domani verranno gli avversari a giocarsela a viso aperto non lo so noi dobbiamo essere pronti sia nell'una che nell'altra situazione Su questo mister proprio perché c'è da aspettarsi come dice lei una squadra sia questa sia la prossima squadra che vengano un pochino a chiudersi e finora Perugia è stato come dire forte sempre nella fase difensiva dopo Manto ovviamente bravo, bravissimo quasi micidiale nel costruire quando ha spazi per ripartire ha avuto più difficoltà quando le altre squadre si abbassano come è successo nel secondo tempo con il Sultirollo o si chiudono addirittura come Perugia un aspetto particolare quanto incide su questa difficoltà il fatto che per esempio c'è una scarsa propensione dei centrocampisti ad inserirsi nel gioco d'attacco anche se poi i centrocampisti di Perugia le hanno queste caratteristiche ma guarda la difficoltà io credo che se trovi una squadra di fronte un avversario che si chiude con tutti i giocatori sotto linea palla penso che le difficoltà non le trova solo il Perugia ma tutte le squadre è normale che quando hai un avversario che se la gioca a viso aperto dato le caratteristiche dei nostri calciatori sia un po' più facile perché abbiamo qualità dal punto di vista tecnico dal punto di vista dell'uno contro uno in determinate zone di campo quindi diventerebbe tra virgolette più facile impostare la gara quando trovo un avversario che si chiude nella propria metà campo non ci sanno più gli spazi noi dobbiamo essere bravi a sapere per farvi un esempio se trovo una squadra che si chiude è inutile che vada a cercare di invucare centralmente quando magari ci sono tanti uomini centrali quindi dobbiamo andare per vie esterne dove dobbiamo andare a cercare l'uno contro uno dove dobbiamo cercare poi di andare a creare superiorità e poi andare a finalizzare e questo è le difficoltà che trovi quando affronti degli avversari così noi dobbiamo essere bravi come hai detto tu anche col sud di Tirol si sono chiusi nel secondo tempo nella propria metà campo facevi fatica e poi lì deve essere bravo nelle coperture preventive a non far ripartire la squadra in contropiede quindi deve essere molto bravo in questo Mister buongiorno Andrea Franceschino da Radio buongiorno ritornando proprio al secondo tempo della partita contro il partendo da quello insomma contro il sud di Tirol la squadra è sembrata ad un certo punto anche un po' stanca nel senso che loro si chiudevano ma non c'era più la forza di andare magari con tanti giocatori a provare a rimettere il risultato dalla parte del Perugia mi chiedo mancano quattro partite alla praticamente alla pausa dal punto di vista atletico dal punto di vista della appunto della della condizione questa squadra su cosa state lavorando ora questa squadra a che punto è nel senso sparerete diciamo le cartucce fino a fine anno e poi ci sarà tempo per ricaricare e rifare magari un minimo di di fondo oppure c'è ancora da lavorare per raggiungere una condizione accettabile visti anche tutti i problemi di di covid e di infortuni che il Perugia ha avuto grazie ma io come ho visto io la squadra la vedo e l'ho vista soprattutto tranne qualche partita non considerando Manto ma tranne qualche partita ho visto la squadra dal punto di vista fisico bene qualche partita come ho detto prima un po' di stanchezza ci può stare soprattutto nel periodo che abbiamo avuto parecchi infortuni e del covid dove sono stato tra virgolette anche costretto in alcuni reparti a giocare con tanti calciatori anche tre partite durante la settimana in una settimana e quindi un po' di stanchezza credo sia anche normale non credo non credo al fondo o non credo meglio non credo al tipo di preparazione che si faceva una volta a me piace lavorare settimana dopo settimana non pensando ai micro cicli macro cicli a me interessa settimana dopo settimana perché poi il lavoro settimanale viene anche soprattutto condizionato dal risultato della domenica perché senza prenderci anche tanto in giro il risultato positivo ti permette anche di lavorare con più serenità puoi fare tante cose anche nella testa dei calciatori subentra meno stanchezza quando arriva la domenica il risultato positivo a prescindere da questo credo tantissimo nel lavoro della settimana la squadra lavora benissimo durante la settimana e ripeto a mio avviso dal punto di vista fisico siamo molto bene è normale che gli ultimi 20 minuti col sud di Tirol anche come è capitato anche in altre partite quando spingi tantissimo è normale che ci sono fasi della partita sia per la bravura dell'avversario sia perché la stanchezza si fa sentire la squadra non spinge per 90 minuti come vorremmo un po' tutti noi ma è normale credo che sia anche normale però dal punto di vista fisico la squadra sta bene sta ha superato il momento iniziale di difficoltà per via di tante tante cose e quindi in questo momento sta bene e non pensa alle quattro partite io penso solo a domani e penso a cercare di ottenere tre punti perché dopo otto nove risultati consecutivi adesso dopo tre pareggi consecutivi serve vincere perché giochi in casa perché dobbiamo cercare di vincere e quindi io lavoro in base alla partita di domani non pensando alle quattro partite prima della sosta mister buongiorno Nicolò Brillo sportperugia.it volevo fare una domanda che è sulla un po' dal campo ma si può ricollegare ieri abbiamo visto che insomma la sinergia con l'associazione avanti tutta Ollus si è fatta più forte giocherete con il loro logo le chiedo tanto se sei informato ha avuto modo di conoscere l'associazione il tuo fondatore Leonardo Cenci che non ha potuto conoscere purtroppo ma che infondeva grosso coraggio avanti tutta lo dice tutto e se può essere il motto per dare qualcosa in più non tanto a livello di prestazioni come abbiamo detto ma a livello di perseveranza di cattiveria se può essere da stimolo questo ieri abbiamo assistito tutti alla storia e credo che sia una storia molto toccante e volevo parlare alla squadra fare la riunione era in programma la riunione con la squadra ma dopo aver sentito questa storia non aveva senso fare parlare soprattutto non aveva senso aprire nessun tipo di discorso riflettere su quello che purtroppo il ragazzo ha subito ma soprattutto ci deve far riflettere che davanti a una cosa molto più grande di noi a un male è una cosa che nessuno di noi purtroppo può farci niente il ragazzo ha avuto la voglia la determinazione il coraggio ma soprattutto la forza di lavorare lottare e ottenere un sogno perché lui aveva un sogno fare la maratona e quindi questo deve essere un segnale molto importante per tutti noi per me che faccio l'allenatore per i ragazzi che fanno la cosa più bella per me al mondo perché il calcio è la cosa più bella e ti deve dare tanta forza soprattutto nei momenti difficili tra virgolette perché i momenti difficili nella vita sono quelle che ha attraversato di ragazzo io purtroppo anche personalmente so cosa si prova perché l'ho vissuta in prima persona con mio papà e so le sofferenze e le difficoltà davanti a una brutta malattia da questo dobbiamo è un segnale un messaggio molto importante perché abbiamo visto anche dei video vi ripeto molto toccanti molto molto toccanti emozionanti e poi anche le parole del papà sono state veramente molto belle positive noi dobbiamo fare veramente tesoro e fare qualcosa anche per poverino anche per lui perché lui è molto tifoso del Perugia e noi dobbiamo regalare un sorriso ai genitori regalare un sorriso un po' a tutti perché queste sono le cose veramente brutte della vita e noi dobbiamo veramente riterrerci tutti fortunati mister buongiorno volevo sapere se ci sono degli indisponibili nell'ultima ora in vista di domani grazie ad oggi Negro e Favalli è lungo che è rientrato ma ancora preferisco non rischiarlo spero che sia per il covid sia soprattutto perché fino a domani ci stanno ancora 24 ore che siamo a posto così